Giovedì 7 novembre 2013, presso l'auditorium Testori nel Palazzo Lombardia di Milano, in Piazza Città di Lombardia 1, si è svolto il workshop di Action Group dal titolo Riqualificazione e Restauro. La partecipazione al corso è gratuita e prevede il riconoscimento di quattro crediti formativi dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano e dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Milano e Lodi, il workshop di infoprogetto, formazione, informazione e business. Intervenuto in qualità di relatore anche Alessandro Fassi. Su che cosa verte il suo intervento, di che cosa si parlerà? Verterà sulla descrizione di un progetto che stiamo facendo in Piemonte, in provincia di Alba, che dovrebbe essere un caso studio per il protocollo che uscirà a breve, GBC Historic Building, ed è un caso studio che riguarda un immobile ritenuto storico, tra virgolette, in quanto rappresentante di una categoria di immobili di edilizia spontanea tradizionale, di impronta rurale, che era estremamente diffuso in tutta la pianura padana, possiamo dire, non solo in Piemonte, quindi che come tale riveste un'importanza storica come monumento, come un monumento diffuso, più che essere un singolo edificio di particolare prestigio, che appunto avrà queste caratteristiche, oltretutto di risparmio energetico e di sostenibilità, e quindi verranno utilizzati i materiali naturali, eccetera, per la sua ristrutturazione. In questa fase entreranno subito, ad affiancarci nella fase progettuale, entrerà una parte che si occuperà proprio del controllo, della revisione del progetto man mano che va avanti, secondo proprio quello che attualmente è la bozza del protocollo historic building.